Allo stadio San Paolo hanno rubato, in rifacimento per le università, hanno rubato una dozzina di faretti Ho detto ragazzi, in quale città italiana accadono cose di questo tipo, in nessuna città italiana Poi Forgione, uno scrittore, ha messo un elenco di posti dove hanno rubato dei fari per la luce Gli altri posti in Italia che mi sono stati elencati uno per uno, non c'entrano niente con lo stadio È chiaro che in Italia ci sono i vandali, ma non sono in Italia che rubano le luci dappertutto Questo è successo durante il rifacimento da San Paolo